Notte di controlli a Napoli da parte degli agenti della Polizia Municipale, affiancati dai volontari dell'Associazione 15 Maggio, composta dagli amici di tre ragazzi napoletani che proprio in quella data l'anno scorso hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a rientro da un sabato notte passato nei locali di Posillipo. Gli agenti della Municipale, coordinati dal comandante Luigi Semente e dall'assessore comunale alla sicurezza Giuseppe Narducci, presenti alle operazioni, hanno effettuato decine di test con l'etilometro agli autisti nelle zone della Movida del centro città. Sono state sequestrate 25 patenti a 7 donne e 18 uomini risultati positivi ai test. Ulteriori controlli nei locali notturni hanno portato al sequestro di una discoteca nei pressi di Piazza Municipio sprovvista delle licenze e del certificato di agibilità e dalla denuncia di titolari di altri locali ai quali sono state contestate varie irregolarità strutturali e di gestione. La collaborazione tra l'Associazione 15 Maggio e la Polizia Municipale, dopo la donazione avvenuta lo scorso dicembre di un nuovo telelaser per il controllo della velocità, continuerà con una serie di incontri con gli studenti di varie scuole della città per sensibilizzarli al tema della guida responsabile.